Il mondo imprenditoriale ha incontrato questa mattina quello universitario dando vita a Palazzo Fortuna ad un workshop sulla cultura d'impresa, un'occasione per approfondire la struttura produttiva locale e conoscere il sistema impresa attraverso i canali innovativi a disposizione di chi vuol fare impresa e farla bene. Un confronto che ha visto protagonisti e realtà locali impegnati in prima linea nella diffusione della cultura imprenditoriale e dei servizi ad essa connessi. Tre le testimonianze per dare una visione a 360 gradi sul mondo giovanile e sul business adesso connesso raccontate da alcuni tra i protagonisti di una rinascita economica nel panorama locale frutto di un nuovo approccio imprenditoriale. Claudio Sicili per la Darwin Technology Startup, Niccolò Santocchini per Squisili, attività familiare rinnovata e rilanciata con un nuovo brand e Lorena Santoro per My Sicili, una scommessa sulle tipicità della nostra terra. La cultura di impresa non è di una generazione in particolare ma ci riguarda tutti. Riguarda tutti e riguarda la capacità di ogni imprenditore di innovarsi e di evolvere il proprio modello di business. Stiamo parlando e ci stiamo confrontando proprio con gli studenti universitari perché alla base della riuscita di un progetto di impresa c'è sicuramente una bella idea ma anche un'attenta analisi. La responsabilità della riuscita di un progetto di impresa dipende spesso dall'ecosistema, cioè dalla responsabilità di tutti gli attori che vivono in un dato ecosistema. Ecco, noi come giovani imprenditori di ConfCommercio stiamo cercando di mettere al servizio degli imprenditori e degli aspiranti imprenditori un modello che possa agevolare la nascita e la crescita delle imprese della nostra provincia. Lo faremo con uno sportello, lo sportello dell'innovazione, un progetto appena concepito da ConfCommercio che sarà al servizio del territorio proprio per raggiungere questi obiettivi. Questa attività rientra tra le attività di orientamento di itinere degli studenti universitari. Abbiamo avviato un percorso di workshop presso i dipartimenti, prima questo di economia impresa, sostanzialmente mirano al potenziamento delle soft skills dei nostri, giovani studenti in maniera tale che possano affacciarsi quanto prima al mondo del lavoro con tutte le competenze richieste dalle aziende. Abbiamo il piacere oggi di avere alcune rappresentanze del territorio, giovani imprenditori di ConfCommercio, ConfCommercio stessa che tiene appunto un workshop tematico sull'autoimpresa con testimonianze anche provenienti dal tessuto dei giovani imprenditori. Un'iniziativa che abbiamo ritenuto è estremamente valida per motivare i nostri studenti universitari in una scelta che è anche quella della creazione di impresa oltre che, ripeto, tutto ciò che riguarda l'ambito formativo delle competenze trasversali dei nostri ragazzi abbiamo avuto già una sollecitazione da parte proprio dal basso, da parte degli studenti, oltre da parte dei nostri docenti del potenziare queste attività rivolte ai nostri giovani.